Amava la musica e l'arte, ottenne altissimi riconoscimenti dalle più prestigiose università di medicina di tutta la Germania. Pronunciò il giuramento di Ippocrate e si impegnò a svolgere il suo lavoro avendo come unico scopo il bene dei pazienti. Eppure il luogo in cui scelse di lavorare durante la seconda guerra mondiale è conosciuto come Auschwitz e lui stesso, l'uomo che sezionava i bambini in nome della superiorità della razza ariana, veniva chiamato l'angelo della morte. Stiamo parlando del dottor Josef Mengele, un personaggio a cui ancora oggi sono legati molti misteri. Da quale contesto sociale e culturale emerse un uomo come Josef Mengele? Il medico responsabile di aver inviato ad Auschwitz più di 4.000 persone, in gran parte ebrei, perché fossero sterminate nelle camere a gas, l'uomo che condusse i più folli e bizzarri esperimenti sui gemelli, nella speranza di riuscire a individuare i meccanismi genetici per poter creare una razza ariana pura e superiore, che avrebbe dominato il mondo nei secoli futuri. Per poter analizzare i paradossi della personalità di Mengele e sondare i maligni misteri della sua mente, dovremmo riuscire a vedere il mondo così com'era quell'11 marzo 1911, il giorno in cui nacque l'angelo della morte. Josef Mengele venne al mondo in una Germania che si preparava al primo conflitto mondiale. La guerra scoppiò nel 1914. Il padre di Josef venne destinato al fronte occidentale e la madre rimase da sola a mandare avanti la piccola azienda di famiglia che produceva attrezzature agricole e ad allevare i loro tre figli, di cui Josef era il primo genito. La guerra terminò nel 1918 con la sconfitta della Germania, a cui seguì l'umiliazione del Trattato di Versailles, che le tolse gran parte dei suoi territori e annullò la sua potenza militare. Ma la fierezza del popolo tedesco era indomabile e nel giro di pochi anni l'intera nazione risorse. Il padre di Josef tornò a Gunzburg e lavorò per rimettere in piedi l'azienda, che in breve tempo divenne la più grande industria della regione. La famiglia Mengele ne ricavò una grande ricchezza e ottenne prestigio e rispetto, tanto da essere considerata una delle famiglie più importanti della Baviera. Un rispetto che le viene riconosciuto ancora oggi, malgrado l'ombra dell'infamia procuratale dal medico di Auschwitz. Il padre di Josef in realtà passava poco tempo all'interno della fabbrica. Preferiva rimanere nel suo laboratorio a inventare nuove macchine per l'agricoltura. Riuscì a brevettare nuove trebbiatrici, macchine per tritare le barbabietole da zucchero e trattori che spargevano il concime. A lui quindi non parve a fatto strano che il figlio maggiore, una volta adulto, amasse passare le notti chiuso nel suo laboratorio di Auschwitz, curvo sul microscopio. Pensava semplicemente di avergli trasmesso la sua passione per la ricerca. A metà degli anni venti la Germania era il paese col più alto livello culturale e scientifico del mondo. Berlino era considerata la più elegante e sofisticata delle città, nemmeno Parigi riusciva a eguagliare il suo prestigio. Intanto, nelle celebri università tedesche nascevano nuove teorie sull'evoluzione della razza umana. Charles Darwin era l'uomo del momento e l'eugenetica, la scienza che studia i meccanismi per migliorare la specie, animava dibattiti in tutto il mondo. Qualche anno più tardi tutto questo avrebbe fortemente influenzato la vita di Josef Mengele. Egli capì ben presto che lavorare nell'azienda di famiglia non lo appassionava. Mengele's father was an autocrat. Il padre di Mengele era un autocrate. All'interno della fabbrica non faceva che urlare. Era molto autoritario. La madre non era diversa. Era una cattolica molto osservante e severa. Pretendeva una rigorosa disciplina. Mengele crebbe nella convinzione di dover fare qualcosa di assolutamente straordinario per ottenere l'approvazione dei genitori. Il suo non era un ambiente familiare sereno. Un compagno di scuola ricorda che fin da studente Mengele era ossessionato dall'idea di fare qualcosa di eccezionale, di compiere una grande scoperta scientifica. Solo così si sarebbe sentito appagato. I coniugi Mengele godevano di un grande prestigio a Gunsburg e la loro fabbrica dava lavoro a più di 200 persone. I figli frequentarono le scuole statali, dapprima le elementari, poi il ginnasio, ma Josef desiderava compiere anche gli studi universitari. Un suo compagno di classe ricorda. Abbiamo frequentato insieme il ginnasio. Josef era uno studente straordinariamente ambizioso. Voleva fare qualcosa di eccezionale, diventare un grande scienziato. Un altro studente lo ricorda come un ragazzo molto aggressivo e animato da ideali patriottici. Nel 1930 Mengele fu ammesso all'Università di Monaco. Qui si presentò alla guida di una lussuosa automobile bianca. Studiava con grande impegno, ma amava anche la bella vita, il tabacco, la birra, le sale da ballo e le uniformi militari. Monaco era anche il centro dei nuovi fermenti politici e Josef Mengele elaborò molte delle sue teorie dopo aver ascoltato i discorsi di Hitler sulla superiorità della razza tedesca. Molti studenti erano affascinati da queste teorie. Ereditarietà e eugenetica erano parole che circolavano quotidianamente all'interno della comunità scientifica, che in gran parte era solidale con Hitler e con le sue altisonanti teorie sulle origini del popolo tedesco. Un popolo che difficilmente sarebbe riuscito a sopravvivere se non si fosse sbarazzato al più presto di parassiti come gli ebrei. L'antisemitismo esplose e la comunità scientifica parve non avere nulla in contrario. Argomenti quali la purificazione della razza, l'eutanasia, la sterilizzazione dei soggetti indesiderati e il miraggio di ottenere una razza perfetta attraverso l'eugenetica riempivano la mente di molti scienziati e divennero una grande sfida da vincere con ogni mezzo. La parola eugenetica fu introdotta da Francis Goldin, cugino di Charles Darwin nel 1883. letteralmente significa buona nascita e già in quegli anni si era capito che attraverso la manipolazione genetica era possibile alterare o potenziare le caratteristiche di vegetali e animali. Perché dunque non applicare gli stessi principi agli esseri umani? All'interno della società ci sono individui di maggiore o minore successo. Forse questo è determinato in parte anche dal patrimonio genetico che ognuno porta con sé fin dalla nascita. Questa teoria fu sostenuta in particolare da un certo Ernest Eichel. Egli trasformò il darwinismo nel cosiddetto darwinismo sociale, incontrando il favore sia dei politici sia della comunità scientifica tedesca, perché le sue teorie convalidavano l'ipotesi che quella tedesca fosse una razza superiore. Nessuno si entusiasmò per queste nuove teorie quanto il giovane Josef Mengele. Nel 1934 si iscrisse al partito nazista. Continuò i suoi studi prendendo la laurea in filosofia e fu ammesso alla facoltà di medicina di Francoforte. Qui compì le sue prime ricerche sotto la guida del professor Autmar von Feschure, un ardente sostenitore del nazismo e un'autorità in materia di eugenetica volta al perfezionamento della razza. Durante gli anni passati a fianco del professor von Feschure, Mengele scrisse un elaborato saggio di eugenetica sui bambini che fu pubblicato e ottenne un discreto successo. In questo periodo Mengele, come il suo maestro, cominciò ad appassionarsi in modo particolare allo studio dei gemelli. Ma fu ad Auschwitz, il campo di prigionia costruito nel sud-est della Polonia, che Josef Mengele iniziò un'incessante opera di ricerca nell'intento di scoprire i segreti della moltiplicazione gemellare. Molte coppie di gemelli, soprattutto bambini, si trovarono loro malgrado a far da cavie per questi esperimenti che talvolta costavano loro la vita. Auschwitz sarà l'ultima tappa della carriera di questo medico che fu l'angelo della morte per oltre 400.000 uomini, donne e bambini. Il passaggio dalla magia alla medicina seguì un'evoluzione graduale che durò secoli. Nell'antica Grecia la medicina era considerata un'arte e i medici prestavano un giuramento di fedeltà ai principi che avevano ispirato l'opera del grande Ippocrate, il padre della medicina. Lo stesso giuramento è prestato ancora oggi con grande solennità dai giovani medici che iniziano la carriera. Quelle stesse parole vennero pronunciate molti anni fa anche dal dottor Josef Mengele. Giuro di svolgere il mio lavoro di medico avendo come unico scopo la buona salute dei miei pazienti. Non approfitterò della mia scienza per danneggiare la salute di alcun individuo. Non somministrerò ad alcuno farmaci dannosi approfittando del mio sapere e se verrò chiamato in una casa vi entrerò esclusivamente per portare sollievo all'ammalato. Naturalmente a parole il giuramento di Ippocrate era tenuto in grande considerazione. Purtroppo però in quell'immensa arena culturale e scientifica che era la Germania di quegli anni le idee razziste e antisemite sempre più avevano il sopravvento su quelle che esaltavano il valore della vita. Era un segno dei contrasti che laceravano la società tedesca in un periodo in cui alla grande ripresa economica e culturale si affiancavano gli ideali del partito nazista. Osservando da fuori la Germania nazista ci si chiede come sia stato possibile che in realtà come Auschwitz siano nate in un ambiente che aveva raggiunto un così alto livello culturale, che aveva dato vita a geni come Bach, Goethe e a tante altre grandi personalità. La risposta a questi paradossi è che purtroppo l'odio e la violenza appartengono ad ogni cultura, sono parte integrante della biologia umana. Tutti gli uomini sono fondamentalmente capaci di odiare. Le grandi industrie della Germania lavoravano giorno e notte senza tregua. L'economia era fiorente e la cultura continuava a prosperare. Perché tutto questo è degenerato in odio mortale? In effetti il progresso industriale della Germania va sicuramente annoverato tra le cause di tanta violenza. Il nazismo ha potuto compiere un simile olocausto, proprio perché è nato in un paese economicamente molto sviluppato e culturalmente creativo, come era appunto la Germania. Non dobbiamo dimenticare che è necessario avere una conoscenza scientifica molto progredita e delle efficienti strutture industriali, se si vuole riuscire a sterminare milioni di persone in un tempo piuttosto breve. Bisogna avere ingegneri che progettino i fornicrematori, architetti che disegnino i campi di concentramento e industrie che forniscano i materiali. Ciò che il nazismo ha dimostrato è che si può amare la musica e l'arte e nello stesso tempo restare indifferenti di fronte ad una strage di bambini. Josef Mengele entrò a far parte delle SS, un'organizzazione che ammetteva tra i suoi componenti solo individui che potessero attestare la purezza della loro razza da quattro generazioni. Ovviamente anche le loro mogli dovevano essere di pura razza tedesca. Mengele era innamorato di Irena Schombain a cui chiese di diventare sua moglie. Più tardi dirà di lei. Era bella e ben educata. Era l'amore della mia vita. Quando Mengele decise di sposare Irena furono sollevate alcune questioni sulla famiglia di lei. Sembra infatti che tra i suoi avi ci fosse un bambino nato fuori dal matrimonio e Mengele dovette scrivere una specie di documento in cui affermava con sicurezza che questo parente di Irena non era ebreo nel modo più assoluto. Alla fine comunque la sposò contro la volontà dei suoi genitori che essendo cattolici non accettavano la presenza in famiglia di una nuora protestante. Chi avrebbe potuto sospettare che quel bel giovanotto dai lineamenti nemmeno troppo ariani e dall'espressione un po' timida sarebbe diventato un giorno un fanatico e pericoloso seguace del partito nazista e avrebbe avuto sulla sua testa una taglia di oltre due milioni di dollari per crimini contro l'umanità. Mengele ormai faceva parte delle SS a tutti gli effetti e completò il suo addestramento sulle Alpi tirolesi. Poi ritornò a Francoforte e riprese le sue ricerche. In quel periodo viveva con Irena in un'elegante casa in riva almeno. Erano una coppia felice e spesso li si vedeva a passeggio per la città. Amavano Francoforte e partecipavano con entusiasmo alla sua vita sociale e culturale. Nel settembre 1939 si ebbero i primi segnali di guerra. La Germania invase la Polonia e la conquistò in meno di un mese. Finché la guerra ebbe un esito positivo per la Germania Mengele rimase a Francoforte con Irena e continuò le sue ricerche biologiche ma quando la guerra fu condotta su due fronti e la Germania attaccò la Russia l'unità di SS a cui apparteneva fu mobilitata e inviata sul fronte orientale. Qui Mengele svolse la sua opera di medico sul campo di battaglia. Combatté con onore sul fronte orientale, fu ferito e ricevette una medaglia al valore. Divenne un eroe e un esempio per i nazisti. Era laureato in filosofia e medicina e aveva dato prova di grande coraggio. Mengele ricevette per ben due volte la croce di ferro al valore e alcune altre onorificenze militari per il suo servizio sul fronte orientale. Dopo il suo ferimento fu dichiarato non idoneo a combattere ma volle restare sul campo di battaglia per curare i compagni feriti. Perché un uomo così qualificato come medico e ricercatore scelse di lavorare in un luogo come Auschwitz? I gemelli erano la sua ossessione. A Berlino non avrebbe mai potuto trovare molte coppie di gemelli da sottoporre ai suoi esperimenti, esperimenti che li avrebbero anche potuti uccidere. Ad Auschwitz invece aveva a disposizione 250 coppie, di un'età compresa tra i 2 e 18 anni. Fra i compiti dei medici nel campo di prigionia c'era anche quello di attendere l'arrivo dei treni che portavano migliaia di ebrei alla destinazione finale. Questi dottori avevano potere di vita e di morte sui prigionieri. Alcuni venivano immediatamente inviati alle camere a gas dove li attendeva una morte terribile, altri erano condotti nei campi di lavoro. Spesso Mengele aspettava i treni nella speranza che tra i passeggeri ci fossero dei gemelli. I prigionieri definivano Auschwitz anus mundi, l'ano del mondo, ma per Mengele era un paradiso in cui poteva portare avanti le sue ricerche, perché voleva essere ricordato come il grande scienziato che per primo aveva rivelato al mondo il segreto della vita. I treni arrivavano al capolinea. Mengele era uno dei pochi medici del campo a gradire il compito di smistare i prigionieri. Era sempre alla ricerca di nuovi gemelli. Cercherò di descrivere il mio arrivo ad Auschwitz. Il treno si fermò e noi udimo alcune persone all'esterno che urlavano ordini in tedesco. Mentre scendevo diedi una prima occhiata al campo. C'erano alti recinti di filo spinato tutto intorno. Nell'aria che respiravamo si sentiva distintamente odore di carne bruciata. Mia madre teneva per mano me e la mia sorella gemella. rimanemmo qualche minuto ferme, in piedi. Faceva molto freddo. La mamma non diceva niente e restava immobile. Ad un certo punto mi resi conto che mio padre e le mie due sorelle più grandi non erano più vicino a noi. Non rividi mai più nessuno di loro. Uno delle SS correva avanti e indietro per il piazzale gridando ci sono dei gemelli. Ad un tratto si fermò davanti a noi. Guardò me e mia sorella e chiese a mia madre se eravamo gemelle. Lei poverina non sapeva che cosa dire. Chiese sottovoce se fosse una cosa positiva e la guardia le rispose di sì. Allora disse sì sono gemelle. Mia madre fu spinta da un lato e noi due dalla parte opposta. Quando mi girai per guardarla vidi che tendeva le braccia verso di noi piangendo. Eva Kor non rivide mai più sua madre. La collezione di cavie di Mengele intanto cresceva rapidamente. Il medico spedì i risultati dei suoi esperimenti al suo maestro von Feschure che lavorava all'istituto Kaiser Wilhelm di Berlino. Quella di Mengele era ormai diventata una vera e propria corsa contro il tempo per riuscire a scoprire il più presto possibile come creare in laboratorio individui di pura razza ariana. Il tempo a sua disposizione non era molto visto che le sorti della guerra non erano più favorevoli alla Germania. L'ossessione di Mengele per i capelli biondi e gli occhi azzurri appare persino ridicola se si considera che né lui né molti dei suoi superiori avevano queste caratteristiche fisiche. Mengele era affascinato a dismisura dagli occhi azzurri e si diceva persino che avesse una collezione di occhi umani nel suo laboratorio. Cercò sempre di trovare il modo di cambiare il colore degli occhi dei bambini. Perché qualcuno dovrebbe voler cambiare il colore degli occhi di un individuo se non fosse veramente convinto che il fatto di avere gli occhi azzurri o i capelli biondi renda un uomo anche biologicamente superiore ad un altro che invece ha gli occhi castani oppure verdi? Fu questa bizzarra convinzione che portò il medico di Auschwitz ad affermare che i suoi esperimenti avevano a che fare con la scienza eugenetica. Ogni mattina si percepiva una grande tensione tra i prigionieri e gli stessi medici delle SS appena si spargeva la voce che Mengele stava facendo il suo giro di ispezione. Tutti erano impauriti al pensiero di vederlo arrivare. Soltanto il tono autoritario che aveva il suo portavoce terrorizzava la gente. Poi arrivava lui con i suoi collaboratori. Era molto elegante e distinto. Sembrava un imperatore mentre veniva verso di noi. Ci osservava con professionalità e cominciava a contarci. Era vestito di bianco. Spesso portava dei guanti e aveva carta e penna per prendere appunti. Doveva contarci. Doveva contare le sue piccole cavi. È difficile spiegare il rapporto che c'è tra un oggetto e il suo padrone. Quello era il rapporto tra noi e lui. È difficile spiegarlo a parole. Nemmeno io sono sicura di averlo capito fino in fondo. Mengele sapeva di esercitare un certo fascino sulle donne e cercava di sfruttare questa dote per ottenere i risultati che si prefiggeva. Gisela Perl, una dottoressa ebrea prigioniera ad Auschwitz, ricorda. Lui stava in mezzo a noi ed era sempre profumato. Era elegante, molto bello. Portava camice di un bel colore blu. Molte ragazze venivano a dirmi, sarei felice di passare una notte con lui. Era un altro sintomo della pazzia che si stava diffondendo tra noi. Eravamo a pochi passi dai forni crematori eppure, per qualcuna, lui era il principe azzurro. Molte volte però affiorava il lato più oscuro della sua personalità. Lo videro sparare a un ragazzo ad entrambe le ginocchia perché aveva rubato un pezzo di carbone. Lo prese per i capelli e lo scosse agitando il braccio con la pistola. Qui è proibito rubare, devi rispettare la legge, gli gridò. Poi in tutta calma uscì dalla stanza. Irena Mengele veniva di rado a trovarlo, non viveva ad Auschwitz con il marito. Quel posto era troppo distante dalla città e poco confortevole per i suoi gusti. Non si sa fino a che punto fosse a conoscenza dei crimini di suo marito. In quel periodo il loro rapporto era in crisi e lui la tradiva spesso. Ricordo che molte volte, mentre faceva il suo giro di ispezione, sceglieva una ragazza, una bella ragazza ebrea e passava la notte con lei, ma il mattino dopo la uccideva. Mengele suonava bene il pianoforte. Spesso intratteneva così i suoi ospiti e il suono della musica e cheggiava attraverso il campo fino al mattino. Josef Mengele era pazzo? La sua mente era sconvolta da qualche malattia? Oppure la sua smania di conoscere i segreti della genetica aveva annullato completamente la sua coscienza? Le opinioni in proposito sono discordanti. Il dottor Josef Mengele era la personificazione del demone nazista. È diventato giustamente il simbolo della follia nazista. In effetti è impossibile leggere i verbali d'accusa redatti dalla Repubblica federale tedesca contro di lui in cui vengono descritti minuziosamente i suoi esperimenti e i loro scopi e ne emergono i dettagli più raccapriccianti senza restare sconvolti dalle atrocità commesse da quell'uomo. È importante capire che Mengele era convinto di lavorare per la scienza e per farlo in modo serio ed efficace è necessario essere molto rigorosi e disciplinati. Ci si deve basare su dati concreti. È indispensabile fare esperimenti. Io non penso che Mengele fosse pazzo. Direi piuttosto che era uno studioso che giustificava i suoi crimini con l'alibi della ricerca scientifica. Tre volte alla settimana ci iniettava sostanze, anche cinque per volta. Ma non sono mai riuscita a sapere cosa fossero. Durante gli esperimenti iniettava ogni tipo di sostanza nelle vene di quei bambini, persino acido fenico, cloroformio e benzina. A volte gliele iniettava direttamente nel cuore. Li uccideva per poter poi fare le autopsie e spesso compiva anche delle vivisezioni. Sezionava esseri umani ancora vivi e poi naturalmente li lasciava morire. Pazzo o no, Mengele era ormai arrivato alla fine della sua carriera. Alle soglie dell'inverno l'esercito russo avanzava rapidamente verso Auschwitz. Il 26 novembre 1944 Heinrich Himmler, un ex allevatore di polli, ora comandante generale delle SS, telegrafò l'ordine di interrompere immediatamente le attività ad Auschwitz. Ben presto sarebbe iniziata l'odissea di Mengele, una fuga continua. Prima che iniziasse lo smantellamento del campo, Mengele portò a termine l'ultimo incarico. Con la consueta calma assistette all'arrivo del treno e inviò alle camere a gas 461 ebrei su 509. Fu la sua ultima impresa ad Auschwitz. L'eco delle armi dell'esercito russo si faceva sempre più vicina. Mengele cominciò a raccogliere la documentazione delle sue ricerche. Il 18 gennaio 1945 l'angelo della morte lasciò definitivamente Auschwitz. Gli esperimenti ad un certo punto si interruppero a causa della disfatta nazista, o almeno così pensai, perché Mengele sparì nel nulla. L'ultima volta che lo vedemmo era la fine di ottobre o l'inizio di novembre. Se ne andò senza salutare. Da questo momento avrebbe avuto inizio una canita caccia all'uomo in ogni parte del mondo. Mengele lasciò la sua divisa delle SS e vestì quella di ufficiale dell'esercito regolare tedesco. Raggiunse un battaglione in ritirata e cominciò a prestare servizio come medico nell'ospedale da campo. I convogli militari si ritiravano verso il sud. Nel maggio del 1945 la Germania si arrese. Mengele fu rinchiuso in due diversi campi di prigionia alleati, ma ben presto fu rilasciato. Come potè superare l'interrogatorio al quale venivano sottoposti i prigionieri? Mengele non aveva il caratteristico tatuaggio delle SS. I soldati americani cercavano questo tatuaggio per poter identificare coloro che avrebbero dovuto arrestare immediatamente. Non c'è nessun documento che spieghi perché Mengele non avesse il tatuaggio, ma alcuni dottori delle SS che lavoravano nei campi hanno confermato che non l'aveva. Un'altra coincidenza fortunata per lui fu che gli alleati avevano una gran fretta di rilasciare i soldati dell'esercito regolare tedesco. Mengele riuscì a passare inosservato. Utilizzando un nome falso e con il sostegno della sua famiglia trovò lavoro in una fattoria a Rosenheim, poco lontano da Gomsburg, la sua città natale. Dal 1945 al 1949 ricevette regolarmente le visite di sua moglie Irena. Un giorno lei si presentò con un bambino in braccio. Rolf Mengele era nato nel 1944, concepito durante una delle visite di Irena ad Auschwitz. La Repubblica federale tedesca compilò un elenco di criminali di guerra nazisti. Molti ufficiali delle SS, tra cui alcuni medici, furono processati e condannati. Mengele aveva paura, doveva lasciare la Germania, ma sua moglie rifiutò di seguirlo. Fuggì in Italia nel 1949. Poco dopo si imbarcò su una piccola nave diretta a Buenos Aires. Mengele si sentiva sicuro in Argentina. Un'organizzazione segreta chiamata Odessa offriva protezione alle SS. La presenza di una comunità tedesca piuttosto numerosa e i bei paesaggi del Sud America mitigarono la nostalgia per il suo paese. Alcune zone montane gli ricordavano la sua baviera. Conduceva una vita anonima e tranquilla a Buenos Aires in una bella proprietà e il suo nuovo nome era Helmut Gregor. All'inizio degli anni 50 pensò che le ricerche dei criminali di guerra si fossero ormai concluse. Si sentiva al sicuro e riadottò il suo vero nome. Era un dipendente della Mengele Company in una delle filiali in Argentina. Il suo nome compariva sull'elenco telefonico della città. Suo padre Carl andava spesso a trovarlo e durante una di queste visite lo informò che Irena voleva il divorzio perché aveva deciso di risposarsi. Mengele acconsentì al divorzio. D'altra parte non aveva alternative. non era che la legalizzazione di una separazione ormai avvenuta da tempo. Irena era libera e lui avrebbe continuato la sua vita in Sud America. Un giorno l'avvocato che curava gli interessi della sua famiglia lo informò che il governo tedesco aveva richiesto l'estradizione per un criminale nazista che come lui si era rifugiato in Argentina. Mengele fu preso dal panico e con l'aiuto di alcuni amici si trasferì in Paraguay dove nel 1959 ottenne la cittadinanza utilizzando il nome di José Mengele. Il Paraguay in quegli anni era governato dal generale Alfredo Stroessner di origine tedesca, grande sostenitore del nazismo. Egli promulgò una legge secondo la quale nessun cittadino paraguaiano avrebbe potuto essere estradato. Era la salvezza. Il nuovo cittadino paraguaiano si sentiva abbastanza sicuro nella sua nuova patria e circolava liberamente per le strade di Assunción. Nel 1960 un colpo di scena. I servizi segreti israeliani rapirono in Argentina il colonnello dell'ESS Adolf Eichmann e lo portarono in Israele dove lo processarono per crimini contro l'umanità. Eichmann comandava la sezione della Gestapo incaricata di deportare gli ebrei nei campi di sterminio. Mengele non si sentiva più al sicuro nemmeno in Paraguay. Cominciò a vivere nella clandestinità. Il Mossad, il servizio segreto israeliano, era sulle sue tracce. Isa Hurrell, ex comandante del Mossad che era capo della missione Eichmann, dichiarò pubblicamente che il prossimo obiettivo dell'organizzazione sarebbe stato Mengele una volta scovato il suo nascondiglio. La conclusione del processo Eichmann svelò al medico di Auschwitz quale sarebbe stato il suo destino se fossero riusciti a catturarlo. Eichmann fu condannato a morte per impiccagione e Mengele cominciava a sentirsi la corda intorno al collo. Compì un ultimo viaggio alla volta del Brasile dove avrebbe vissuto nascosto per il resto dei suoi anni. Secondo alcune testimonianze non era più l'angelo della morte ma un uomo in fuga spaventato e solo. Da quando giunse in Brasile nel 1960 il mistero intorno a lui si fece sempre più fitto. Per 25 anni dal 1960 al 1985 si susseguirono veri o presunti avvistamenti e iniziò un'interminabile caccia all'uomo. Era ricercato da molte organizzazioni tra cui il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, l'Associazione di Simon Wiesenthal e i servizi segreti israeliani. Cambiò spesso residenza e identità. Sappiamo che utilizzò nomi falsi e riuscì spesso a procurarsi documenti contraffatti. José Mengele, Helmut Gregor e Wolfgang Gerhard sono solo alcuni dei nomi che utilizzò in quel periodo. Poteva contare sulla collaborazione e la copertura di Odessa che era riuscita a proteggere molti gerarchi nazisti tra cui Klaus Barbie. Due film di successo si sono ispirati alla vita di Mengele, i ragazzi venuti dal Brasile e il Maratoneta. Il loro successo trasformò la caccia a Mengele in una sorta di mania collettiva che finì per intralciare anziché favorire il lavoro dei paesi che erano impegnati nella ricerca, la Germania federale, gli Stati Uniti e Israele. Le taglie per la sua cattura ammontavano a più di 3 milioni di dollari offerti da Stati Uniti, Israele e dall'Associazione Simon Wiesenthal. Una grossa somma che nessuno poteva mai intascare perché Mengele non fu mai trovato. Nel giugno dell'85 accade un fatto che destò grande scalpore. A Dambu, in Brasile, fu riesumato il cadavere di un certo Wolfgang Gerhard, la cui morte era avvenuta nel 1979. Una commissione di esperti analizzò i suoi resti, il teschio, alcune ciocche di capelli, denti, ossa e indumenti. Il referto degli studiosi stabilì che quello era il cadavere dell'Angelo della Morte, il criminale nazista più ricercato della storia. Se questa tesi era vera, che ne era stato del dottor Mengele dal suo arrivo in Brasile nel 1960 al momento della morte nel 1979? Dove e come aveva trascorso i suoi ultimi anni? In Brasile aveva conosciuto due profughi ungheresi, Geza e Geta Stammer. Erano anticomuniste, simpatizzanti delle idee naziste, fuggite in Brasile dopo la guerra. Per qualche tempo offrirono vitto e alloggio a Josef Mengele, del quale ignoravano la vera identità. Lui diceva di chiamarsi Peter Oblecht e di essere un uomo d'affari svizzero. Insieme acquistarono una piccola fattoria lontano dalla città. L'edificio era sormontato da una torre, da cui Mengele poteva controllare la campagna circostante per assicurarsi che nessuno venisse a cercarlo. La convivenza con le signore Stammer non fu sempre facile, tuttavia si protrasse per 16 anni. cambiarono anche casa trasferendosi alla periferia della città di San Paolo, in una villa che apparteneva alle industrie Mengele. Nel 1976 però i loro rapporti si incrinarono e lui cercò ospitalità altrove. La famiglia Bossert lo ospitò fino al giorno della sua morte. All'apparenza era un uomo semplice e tranquillo e andava perfettamente d'accordo con i figli dei Bossert. In realtà il suo timore di essere riconosciuto e catturato cresceva di giorno in giorno. Dormiva in una piccola stanza e teneva una pistola nascosta sotto il cuscino. La sua vita non fu tranquilla e piena di agi come molti credono. Il suo passato non gli dava tregua. Nel 1976 ricevette la visita di suo figlio Rolf a San Paolo. In seguito Rolf, in un'intervista a un settimanale tedesco, dirà Mio padre mi ha sempre detto di non aver fatto nulla di male ad Auschwitz. Ha ammesso di aver eseguito qualche autopsia, ma nulla di più. Detesto quello che ha fatto, ma è sempre mio padre. Avrei tanto voluto credergli. Se il corpo riesumato nell'85 è davvero quello di Josef Mengele, il 1979 fu l'ultimo anno della sua vita. Nel 1979 andò con i Bossert a fare una gita al mare a 10 chilometri da San Paolo. Avanzò per qualche metro tra le onde. L'acqua gli arrivava alla vita, ma all'improvviso scomparve. Aveva avuto un infarto. Cadde riverso nell'acqua e affogò. I Bossert lo soccorsero immediatamente e lo riportarono a riva, ma non c'era più nulla da fare. Lise Lotte Bossert dispose che il corpo di Mengele fosse sepolto nel cimitero di Ambu e sulla lapide fu inciso il nome di Wolfgang Gerhard. Nel 1985 fu ordinata la riesumazione della salma. La commissione di esperti, formata da tedeschi, americani e israeliani, inviò i resti trovati nella tomba a un laboratorio inglese per l'analisi del DNA. Per poter eseguire il confronto però occorrevano altri campioni di DNA. L'analisi del DNA fu rinviata molto tempo dopo, perché né Irena né Rolf, entrambi residenti in Germania, vollero sottoporsi al prelievo dei campioni di sangue. Io stessa andai in Germania, con tre amici e con mia sorella gemella. Inscenammo una protesta davanti alle industrie Mengele. Noi avevamo dato molto del nostro sangue ad Auschwitz. Perché loro non potevano offrire un semplice campione in nome della verità? Dopo un'inutile attesa, le autorità tedesche fecero pressione su Irena e Rolf affinché si sottoponessero al prelievo dei campioni di sangue e alla fine loro a consentirono. Si poteva quindi procedere all'analisi del DNA. Grazie a questo confronto fu possibile stabilire al 99,9% che il corpo sepolto ad Ambu era quello del padre biologico di Rolf Mengele. Nel 1992 il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, su richiesta del procuratore generale, redasse due dettagliati volumi sul caso Josef Mengele. Vi si poteva leggere che gli Stati Uniti, dopo attente ricerche e rigorosi esami di medicina legale, riconoscevano il cadavere riesumato in Brasile come appartenente a Josef Mengele, l'uomo che era stato inutilmente ricercato per molti anni. Successivamente anche Germania e Israele concordarono con questa versione. Dopo più di 40 anni il caso era ufficialmente chiuso. Tuttavia molti non furono convinti della veridicità di quelle dichiarazioni o non approvarono le modalità con cui erano state svolte le ricerche. Non ci si voleva rassegnare all'idea di non aver avuto giustizia. Il modo in cui Mengele morì non soddisfa la nostra idea di giustizia. Pensando alla sua morte ci saremmo aspettati perlomeno che si ammalasse di cancro e si spegnesse a poco a poco, magari con grande sofferenza. Invece non fu così. Mengele è morto annegato dopo aver avuto un collasso. Sarà stata questione di pochi minuti. Forse si è reso conto di quello che stava accadendo, ma di sicuro non ha sofferto. La dottoressa Gisela Perl, sopravvissuta ad Auschwitz, laureatasi in medicina in Germania, affermò. So che per tutti gli studenti di medicina il giuramento di Ippocrate è come una pagina della Bibbia. E invece Mengele ne ha fatto carta straccia. Eppure una volta Josef Mengele aveva pronunciato fino in fondo le sacre parole del giuramento di Ippocrate. Se terrò fede a questo giuramento e non verrò mai meno al mio dovere, sia il mio nome ammirato da tutti gli uomini e io sia portato come esempio per la mia vita e la mia arte. Ma se lo infrangerò e rinegherò me stesso, allora si perde il mio ricordo tra gli uomini. L'angelo della morte, il medico di Auschwitz, era diventato egli stesso l'incarnazione della morte. L'angelo della morte. Grazie a tutti.